Ciao a tutti i torretti e benvenuti in questo terzo episodio della serie Agricoci, la seconda versione, cioè la V2 della mappa perché non è la seconda versione della serie Comunque quest'oggi siamo qui con il nostro New Holland e andremo prima di tutto a scaricarlo Sono andato avanti a raccogliere il frumento, in pratica ho fatto un carro che tiene 14.000 e ora altri 3.700, direi che è prodotto abbastanza tanto Come per la grandezza del campo Allora qui, andiamo un po' E' che ci passa, ci passa, ci passa senza toccare la prima volta che capita in questa serie Ok anche lì, vabbè oltre ad aver calpestato le galline, comunque girare a sinistra, cioè se entriamo dall'altra E' molto stretto perché con lo sterzo non riusciamo bene Si dovremmo rallentare in queste buche però, vabbè E andiamo a scaricare, non mi ricordo se la scorsa volta avevo fatto vedere lo scarico Mi pare di sì forse Comunque scarichiamo qua No, mi sa che non vi ho fatto vedere Oppure sì, boh, non mi ricordo Comunque questo carro Dovrei portarlo su però ora andiamo ad occuparci di un'altra cosa Ovvero di imballare i campi di paglia Quindi quasi quasi lo lascerei qua in farm Perché poi dopo torneremo ancora Quindi non ci serve subito Quindi adesso aspettate, lo piazziamo qua dentro Questo capanno qua, dai Aderizziamolo un pochettino Ok Ed ora penso che vi taglierò il viaggio di andata Comunque ci compriamo l'imballatrice Che è, eccola qua E' questa Sto quasi pensando di usare l'altro trattore Sì, usiamo Usiamo il Massey per andare a prenderla, dai Compra Ok Quindi qua Lo lascio collegato E lo riportiamo su Che andiamo a prendere un attimo il Massey Perché mi sembrerà un po' troppo piccolo Però il Massey è 95 cavalli circa Con 120 siamo troppo esagerati Cioè Vediamo un po' se tocchiamo ancora No, no Andando piano non si tocca più Perfetto Comunque andiamo su Facciamo uno scambio Andiamo a imballare questo campo Il problema è che ci servirà anche un caricatore No, no Aspettate Non ci serve un caricatore frontale Ci prenderemo quell'attrezzo Che Avevamo visto scorsa volta Poi dopo Quello sempre di Black Sheep Allora In teoria qui a destra Devo girare Che c'è anche il Massey Infatti guardate lì la Trebio Stava andando avanti Si intravede Lasciamolo qua per ora Ok Prendiamolo Spero vi possa piacere come serie Perché Ovviamente non ho ancora uscito Il primo episodio Perché non posso Sapere se vi sta piacendo Oppure no Però Secondo me Merita come serie Comunque dai Ci vediamo direttamente allo shop Ok ragazzi Siamo arrivati allo shop Alla fine Me lo sono ripristinato Perché era troppo lunga Sì Come imballatrice è abbastanza piccola Faccio vedere già L'altro attrezzo Che servirà Questo qua 1.5 Solo Che non possiamo collegarlo Vediamo un po' Se ha personalizzazioni No 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 Lo compriamo Che noleggiarla Adesso vi faccio vedere al ritorno Perché è un È fatta bene come mappa Qui cos'è che È il campo 42 Che è abbastanza grande Ok È un po' Troppo lontano Lo shop Sinceramente Però alla fine Dai Fa niente Dobbiamo anche trovare Una risorsa di guadagno Vabbè Con la vendita delle colture Un po' Guadagneremo Adesso non ricordo Quanto ci possono dare Però va abbastanza Credo Arriva Nessuno Chi è Questo qui è il Ma Sembra Con una texture Diversa Dalle Dalle originali Comunque Quest'oggi Ci copriamo Soltanto Della raccolta Della paglia Poi lo porteremo A casa Magari prossimamente Ecco Tanto Di solito I balloni di paglia Non è che Vengono portati Subito a casa Li lasciano ancora lì Tanto Non patisce tanto Sì Ho detto Tanto In In una frase Due o tre volte Quasi Comunque Si è piuttosto Distante Come vedete La mappa Non è grande Non c'è Non è piccola Ma non è Nemmeno grande Diciamo che Per i campi Questa zona qua Dove siamo noi Ora Aspettate Ho fatto la strada Sì Potremmo fare anche l'altra Però Era tutta dissestata Facce la strada principale Vedete I campi a sinistra Sono quelli più grandi Principalmente Tipo 39 38 37 Poi questi qua Sulla destra Diciamo che sono Normali Ecco Medio Piccoli Ecco Sì Per la mappa Direi Medi I piccoli Sono più In alto Comunque Ecco C'è anche La foresta Che qui sulla destra Vedete Il segno Delle piante Però Non ce ne occuperemo Perché alla fine Non ci sono abeti Quindi non staremo Mai qui A tagliare Betulle O Gli altri tipi Di piante Che ci sono No Dove cavoli Dove cavoli Come cavoli ho fatto Non lo so Stavo guardando Con l'altro analogico Ho girato dentro Vabbè Comunque spero Vi piaccia anche Questo massi Perché Sinceramente Non è che Mi faccia impazzire Come mezzo Però Qua su farmi Direi che È abbastanza bello Da utilizzare È comodo E tutto quanto Vabbè Con l'imbalatrice Non toccheremo mai Quindi Andiamo Ed eccoci Già qua arrivati In campo Già arrivati Ok Dopo un bel viaggetto Andiamo Andiamo dritti Appassiniamo E accendiamo Teoria porta 4000 Litri Se non mi sbaglio Qua sul gioco E Sì Non ne faremo Tantissime Però dai Fa niente Alla fine Un po' di paglia Ci servirà Per i nostri animali Ecco In salita Fa un po' di fatica E di scaricarla qua Come si scarica Che da un po' Che non ne faccio più Scarica imbalatrice Con la Y Con il joystick Con Eh Cosa sono Tutti sti tasti strani Ah Ok Andiamo un po' in retro Eh Si Potrebbe anche farcela Allora Spegniamola un attimo Altrimenti In salita Già fa fatica di su Questo mezzo Cioè Non fa tantissima fatica Però un pochettino ne fa C'è anche di peggio Eh Però vabbè Se ne fa di meno Tanto Molto meglio Dai Comunque siamo Molto In orari molto tardi Le 7 Cioè De Quasi le 7 di sera Sì però Abbiamo anche solo 7000 euro Quindi dovremo Finiti i raccolti Dovremmo iniziare a A vendere un po' di Di colture Ecco Allora Ma come campetto Alla fine direi che Un po' io Non è ipotesi mia Sarà 2 3 4 5 6 7 balloni Massimo 8 E' nipotesi Non è detto Che sia così Allora vediamo Un po' se questo Riesce a stare Fermo Un po' rotolo Era Ok Si è appoggiato E in teoria Sta fermo Passiamo tutto Comunque è molto bello Usare questa mappa Cioè Con i mezzi così piccoli E' molto Interessante Non è fatto male No Questi giorni sto provando Una mappa Veramente grande E proprio stile americano Che forse ne ho già parlato Negli scorsi giorni Ma Diciamo che E' abbastanza pesantina Anche a livello grafico Quindi boh Pensavo di farci sopra Un video tipo test map Ma non Non ne ho idea Comunque questa mappa Si fermo Un'igualatrice E non è male Piccolina Bella compatta E Va un po' dappertutto Non ne abbiamo infatti 3 Ehm No Col che dicevo Fima è stato Un po' Non sbaglio Ne faremo 5 O 6 Se riusci a Non andare Ok Si comunque va Parecchio veloce Cavoli Tu Un chilometro orari Torniamo indietro Ok Riprendiamo Sto da toglio Farlo interno Cavina No ne faremo 4 No Giuntissimo come Ma è suo No infatti Era chiuso ancora Scaricata E ripartiene Ecco una cosa brutta Il cardano Vedete come è collegato male All'imballatrice L'unico difetto Che Per ora Ho notato Comunque questo pack Veramente Merita parecchio Soprattutto con l'aggiunta Anche di questa imballatrice Dei trattori Dei trattori a Trazione Posteriore E anche Di un'altra cosa Che sarebbe Ah la trebbe Giustamente Vediamo un po' Non ce n'è più Un giro Praticamente No Torniamo questo Ok Ed ora ci dirigiamo Al nostro Altro campo Quello Aspettate Già che c'è Con un po' Di paglia Ok Ne abbiamo fatti Quanti Uno Due Tre Quattro Guardate Sono tutti C'è Guardate che roba Così tutti Se li collegate Tra loro Fatti quasi Una linea retta No vabbè Lasciamo perdere Comunque No Non vi ho più detto Niente Ma Praticamente Io ho iniziato a scuola Martedì Scorso Che sarebbe Il 12 Molti di voi Ecco ho sentito Che iniziavano L'11 Strano E alcuni Anche prima Veramente strano Come sono le date Dagli inizi Comunque dai Non pensiamoci E andiamo avanti Qua Ad imballare Ecco che qua È abbastanza stretta Come stradina Ce l'ho fatta Entrare così Con il carro Ci direi che Questo campo Qui è piuttosto Grande Ok Guardate anche Come sono fatti Bene i dettagli Qua su Bella 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 Fatta veramente Molto bene Blacksheep Ha veramente Buon occhio Infatti io sto aspettando Oltre alla sua mappa Che in sviluppo La L'escavatore Perché sembra molto interessante Come attrezzo Ed è forse Uno dei migliori Che Almeno Dalle immagini Sembra uno dei migliori Che ci sia in giro Come anche Funzioni Oltre che i dettagli Poi dopo lui lavora anche Livello C'è Per le console Quindi sta facendo Veramente Tanti Tanti quei lavori Che Cioè adesso Ditemi voi Da quel che mi è stato detto È un team Però io Ho sempre pensato Fosse una sola persona Se è un team Ok Ma una persona Fare tutte quelle cose Veramente Veramente Complimenti Cioè Veramente peccato Perché non ha potuto Partecipare Con questo pack Al contest Gliel'hanno Diciamo rimosso Cioè non gliel'hanno lasciato Farlo utilizzare Adesso aspettate Si è richiuso Voglio vedere un attimo Se questo Frumento Ce lo raccoglie Credo di no Invece si Allora è un bug Della texture Si si perché Non c'è più niente Si è un bug Della texture Del Per terra Che ha visto Cioè ha Fatto la paglia E ha messoci Un po' di frumento Ok 39 Cioè Sì 3.900 E 4.000 Ok Sinceramente Una cosa che non ho mai visto In imbalatrice Massi Ferguson Almeno Magari Alla fiera Agricola Verona L'ho vista Però non me la ricordo Però Proprio in giro Qua dalle mie parti Mai viste Di Rottoballe Al solito ci sono Class C'è stata una volta Che ho visto Un'eccezione Un 2 assi Della cron La Non la Proxima Novo Non mi ricordo più Il modello Però quello che c'era Anche su farming Sul 13 2 assi Ho detto Bo strano Veramente strano Vedere un 2 assi Qua Abbassiamo Ci chiudiamo Sì Direi che per questo campo Ci servirebbero Più attrezze Per la raccolta Della paglia Vabbè Volendo Potrei montare Il caricatore frontale A questo Da vedere però Quanto costa Perché non è che siamo Tanto ricchi Abbiamo solo 7000 euro Vabbè C'è sempre La vendita Delle colture Che Ci fa guadagnare Quel qualcosina Ok Adesso stiamo Un po' esternamente Cosa che non mi piace Ecco questo qui All'indoor sound Ma Non dovrebbe avercelo Perché Sentite il sound Entriamo È un pochettino Diminuito Ma non dovrebbe avercelo Perché appunto Non ha la cabina Cioè Non ha i vetri È tutto aperto Comunque Fa niente 3 9 40 Ok Vengiamo un po' Sì l'andana Più o meno L'abbiamo Siamo arrivati Lì a fila Ecco Prossimamente Dovremmo iniziare Ad acquistare Un po' di maiale Sì Un po' di maiale Ci serviranno Ecco Devo tenere da parte Un paio di colture Che serviranno Per loro Dopo magari Gli diamo un occhio Che Molto probabilmente I prossimi episodi Potremmo iniziare Già l'acquisto Anche se nel prossimo Ovviamente Ci occuperemo Della raccolta Delle valle Perché è d'obbligo Ok chiuso Sta rotolando Dove? Vabbè Lasciamolo fare pure Andiamo avanti Sarà una Lunga Raccolta Perché Aspettavo molto di meno Però Dato che abbiamo fatto Anche tanto Tanto frumento Ovvio che faremo Tanta baglia Praticamente rispetto All'altro campo Sto qui cos'è Tre o quattro volte Più grande Eh Io meno Comunque Sono felice Di aver comprato Questa imballatrice Merita parecchia Ecco Avevo detto Di poter aggiungere Una classe Però non l'ho più trovata Cioè Non l'ho più cercata Poi non avendola scaricata Ho detto Boh Devo la ritroverò mai Comunque Non sembrava male Adesso Se la ritrovo La giungerò Magari più avanti Ecco Di effetti Di questa mod Che inizia a fischiare Cioè A suonare Quando sei tipo A Ok Chiuso Quando sei A 50% Una cosa del genere Adesso Provate a notare Più o meno Si 50% No Forse 60 45 A 70% Si 68% Ok C'è un po' Una rottura Non so se si sente L'audio Mentre scarica Anche questa Non è rotolata via Ok Perfetto Si Per portare la paglia Dai maiali Dopo sarà da fare Tutto il giro Un po' Una rottura Però Vabbè E poi Direi di iniziare Anche con i maiali Perché praticamente Sono gli unici Che sono Sono Zona farm Perché adesso Guardate sulla minimapa Praticamente Vedete Tutto l'agglomerato Di mezzi gialli Praticamente A nostra sinistra E poi c'è una stradina Che collega i maiali Ecco dove era andata a finire Vabbè Andiamogli addosso A sto punto Qui c'è ancora Sì Ecco dai che la buttiamo lì No Non l'abbiamo buttata lì Comunque Come campo Rende parecchio Questo E fate conto Che poi Di più grande C'è ancora No Il 25 all'incirca Sarà uguale Però Abbastanza grande Anche quello Quindi Come sera Alla fine Non è che si faranno Pochi soldi Perché Già vendendo Le colture Che abbiamo fatto In questa prima trebbiatura E pensare Che ci sono ancora Due campi di Soia Da raccogliere Quindi Secondo me Ne faremo Parecchio Ancora Adesso direi Che ci possiamo Anche salutare Andrò avanti Io un po' Off camera Ci lasciamo Qua Ok Spegniamolo E scendiamo Guardate Qui come si sta Già sporcando Vabbè Ci mancherebbe Su già un po' Di ore Comunque Voglio vedere un attimo No Non qua Ben Sì Aspettate Fatemi vedere qua Caricatore frontale Per il nostro Mezzo Noi for Eh costa parecchio Cioè Praticamente Costa più dal mezzo Vediamo Sì Qui ho aggiunto Anche Mb3 Ho aggiunto Un po' Di mod Questo non lo prenderemo Perché c'è Sulla made in italy Forse Si potrebbe Prendere questo Comunque Il trattore Costa 17 Praticamente Questo no Questo qua Praticamente Ci costa parecchio Guardiamo un attimo Una cosa Vedete Ci sono le vacche Che sono qua Non sono C'è Sono già stato alle vacche Forse non ho neanche mai vista La stalla Poi ci sono le pecore Che sono Qua Quindi sono lontanissime Allora ci sono i maiali Che sono qua La farm E qui Quindi ottimo Poi qua ci sono i meletti Ottimo E un'altra cosa da vedere Ecco qua Prima Abbiamo Tanto Frumento Abbastanza Ors E anche la Soe Non ne abbiamo No ne abbiamo Poca 6.000 Pensavo che era 63 Comunque vendendo Colsa Vedete 1.300 Fate conto che ne faremo 10.000 A dir tanto Comunque 15.000 litri Li faremo Sicuri In tutto Li possiamo vendere Cioè Li faremo Sommanti a questi 15.000 Potrebbero essere Quindi sommandoli Per 1.385 Non sarebbe male E poi Qua niente Voglio vedere un attimo gli animali Eccoli qua Gli va Paglia Dall'acqua Che magari Me la prendo Già C'è Senza Comprarla L'aggiungo Ai mezzi Che abbiamo Cosa Gira solo I semi Di soia Si Si potrebbe Fare Io ragazzi Spero come sempre Che questo video Vi sia piaciuto Vi invito A lasciare Un bel like Commentare Condividere il video Iscrivervi Al canale Se è ancora Fatto Noi ci vediamo Domani Molto probabilmente Con un noissimo Video Ciao Tutti Toretti Toretti